Un premio prestigioso alla memoria di due illustri medici nel cui Solco inizia la tua carriera da medico, nella speranza di non lasciare questa regione. Sì, sicuramente lo spirito con cui intendo ricevere questo riconoscimento è quello di rappresentare tanti giovani che si impegnano dello studio e che non abbandonano le proprie radici, ma investono qui le proprie risorse, le proprie capacità per una prospettiva comune di sviluppo, di crescita e di miglioramento.